La difficoltà è nulla, è un sogno Pino, guarda che non è difficile, qua c'è come se ci fosse una scaletta se si va di farlo. La difficoltà è un sogno Pino, guarda che non è difficile, qua c'è come la difficoltà è un sogno Pino, guarda che non è difficile, qua c'è come e qua probabilmente c'è la Carex Panormitana, che è con le trisce piccoline, meravigliose. Un sogno Pino, semplicemente un sogno, questo punto è così bello che vale anche solo arrivare qui, scendere con i piedi in acqua, guardare e andare via. Un sogno Pino